riscopri la meravigliosa danza che hai proiettato nel tempo partecipa ad essa in piena coscienza e fai sì che i tanti che si rapportano a te possano goderne allo stesso modo è solo insieme in questa idea che potrai riconoscerti nell'uno in quell'uno che sei e che è la libertà che si riconoscerti che si riconoscerti che si riconoscerti asa che sfera asa 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 che si riconoscere asa kabat 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 asa 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 è lì dove tu sei dove tu ti senti vivere dove si esprimono tutte le tue emozioni ma apri le tue membra e i tuoi occhi finalmente per assaporarla Shalom